Stazione unica di Como Camerlata dopo tre mesi dall'inaugurazione del nuovo scalo ferroviario era il 13 giugno del 2021 non si fermano le polemiche per i continui disagi provocati dalla carenza di posti auto a chiedere informazioni in consiglio comunale su come l'amministrazione intenda procedere per arginare i numerosi disagi provocati all'utenza il consigliere comunale del partito democratico Gabriele Guarisco la stazione è stata aperta ma manca ancora il parcheggio promesso chiedo quando sarà realizzato e nel frattempo quali misure il comune adotterà per migliorare le condizioni di sosta in via Scalabrini e prevenire così i disagi provocati dall'assenza di posti auto dice il consigliere Dem i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio saranno ultimati a dicembre con il nuovo anno il posteggio sarà accessibile a tutti e la risposta che arriva dalla giunta Comasca i ritardi nella realizzazione sono dovuti alla mancata disponibilità di alcune aree in cui doveva essere realizzato il parcheggio fanno ancora sapere da Palazzo Cernezzi se ora finalmente tutto procederà come da cronoprogramma con l'anno nuovo riusciremo ad aprire il parcheggio da 270 posti auto e anche un capolinea dei bus ad oggi però non è presente ancora nessuna traccia dei circa 200 posti auto che il comune dovrebbe realizzare con l'ampliamento dello snodo sarebbero infatti dovuti aumentare anche gli spazi per le auto a servizio di pendolari e viaggiatori oltre che del personale di servizio l'opera infatti è stata finanziata da Regione Lombardia ed è in capo al comune la realizzazione dei posti auto